Proviamo a fare un calcolo insieme. Proviamo a pensare che tu lavori per 40 anni a 2.000 euro al mese di guadagno netto, stipendiato, 2.000. 2.000 per 12 mesi per 40 anni. Fa 960.000 euro. Il che significa che tu in realtà nella tua vita produci un milione di euro di guadagno incassato tuo personalmente. La domanda che ti faccio è di questo milione di euro, quanto ti resta in tasca? Quindi qual è il problema? Il problema secondo te è quanto spendiamo, il problema è quanto incassiamo, il problema è quanto sperperiamo, quanto ci rubano, quanto ci dimentichiamo di valere, quanto ci dimentichiamo di avere. Quanta gente è milionaria se tu vai a ragionare sulle case che ha, per esempio. Magari tu possiedi una casa o i tuoi genitori, la tua famiglia in generale, i tuoi nonni, i tuoi figli, chi che sia. Se tu fai il conto delle case che tu di tua proprietà possiedi, magari mi dici, guarda già una vale 300.000, l'altra vale 400.000, però io sono povero. Perché? Perché non voglio vendere le case, perché c'è un valore affettivo dietro e perché non le voglio vendere, perché poi di fondo non mi piace avere una casa che non è mia, in affitto, però se tu vendessi le due case tu avresti 700.000 euro a disposizione, semplificandola, ok? Quindi è interessante riflettere come in realtà di abbondanza di soldi c'è, tanta gente ha liquidità, ovviamente non tutti, ci mancherebbe, c'è chi non ha una casa in proprietà e c'è chi non guadagna 2.000 euro al mese, è un altro sport. Però è per farti riflettere su come tutti in qualche modo nella vita tocchiamo un milione di euro. Quante mani stringiamo, quanti soldi tocchiamo e quanti di questi ce ne restano in tasca. Infatti il money talk di oggi si riferisce a come non perdere soldi. Ora, gli esempi che ti ho fatto potrebbero farti pensare al fatto che se tu hai due case stai perdendo soldi, potrebbe essere, oppure potrebbe farti pensare che sui 2.000, il milione, i 960.000 euro che guadagni all'anno e un tuo errore se te ne restano in tasca troppi pochi. No. In realtà questo video è semplicemente fatto per farti comprendere come evitare di buttare via soldi, non in una maniera superficiale e non per chi ne guadagna 1.500 euro al mese. Per chi guadagna 1.500 euro al mese o 2.000 o anche 3.000 o direi anche quasi 4.000 o 5.000, il focus dovrebbe essere solo uno. Come salvarne un po', quindi metterne da parte un po' e come cercare di sviluppare nuove competenze per andare a guadagnare di più. Questa è la priorità numero 1. Ma quando iniziamo a guadagnare più soldi, questo video è per te. Il mio invito come sempre è fare in modo che tu lo possa guardare prima di guadagnare più soldi, in modo che nel frattempo che stai facendo lo sforzo per guadagnare più soldi, sai già cosa fare e eviti di fare errori banali come tutti. E dunque partiamo dal cosa fare per guadagnare più soldi, perché non perdere soldi equivale spesso a smetterla di pensare che ad oggi posso fare altre cose rispetto che fare a quello che mi ha prodotto soldi. I professionisti, gli imprenditori professionali, non fanno o-o, fanno e-e. Non dicono come posso investire ma smetto di guadagnare, ma sono persone che dicono io continuo a guadagnare, continuo ad aumentare le mie entrate nel mentre che non perdo, nel mentre che investo attentamente. Quindi la riflessione per te è che oggi tu comprenda finalmente il fatto che il cash flow is king. Quindi il cash flow, le tue entrate dalle tue attività, non passività, dalle tue attività continuino a crescere. Questo è quello che ti permetterà nella vita di essere tranquillo, di essere sicuro, di avere fiducia, di avere autostima e di controllare il flusso principale di entrata. Ora, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare ad un certo punto in cui i tuoi investimenti passivi producono più di quanto il tuo attivo genera. Però ti dico perché è un po' un mito. Primo punto, perché quando tu hai talmente tanti soldi non ti interessa quasi più sapere o misurare, contare al millimetro quanti sono le tue rendite passive. Non ti interessa più perché ne avrai talmente tante e avrai talmente tanti soldi che tu semplicemente sai che tutto quanto funziona e hai un'infrastruttura, magari un family office che ti gestisce queste cose, ti traccia queste cose al posto tuo. La seconda cosa è perché se no si crea un'illusione nella tua mente. L'illusione di dire, sai cosa c'è Giorgio? Il mio obiettivo è quello, quindi metto da parte ogni centavo, ogni centesimo che c'è nel mio stipendio, nel mio incasso, nel mio lavoro e lo investo perché ho fatto la tabellina di quello che è l'effetto composto se io facessi il 5% all'anno per i prossimi 15, 20, 30 anni. E questo ragionamento è il classico ragionamento della gente povera, cioè la gente che misura centesimo per centesimo e mette da parte perché poi tra 37 anni potrò avere 1800 euro di rendita. Ragazzi, facciamo un salto di qualità. Mi sta bene ragionare sul lungo periodo, mi sta bene essere risparmiatori, mi sta bene essere attenti, ma no, non mi sta bene che ci metti 37 anni ad avere la tua libertà derivante dai tuoi investimenti. Bensì è più intelligente dire costruisco un attivo, quindi investo quei soldi che mettevo da parte prima, in me, in un evento, in un'esperienza, nel cibo migliore che mi dà più energia, in una telecamera migliore, in tempo che investo nei social e così via, in una casa migliore che mi fa stare meglio, ok? Ecco perché il cash flow is king, perché la produzione di cash, cash si intende liquidità, che entra dalla tua attività, è padrona. Cioè al posto che io fare 3000 euro al mese e andare a cercare fuori altri modi, il mio focus per non perdere soldi, perché li sto perdendo se io faccio quello, se io invece li investo nella mia attività e produco più denaro, sto guadagnando soldi e quindi non perdendone. Mi segui? Spero di essere stato chiaro, ti do dei pensieri un po' laterali, che magari devi riascoltarli due volte per capirli, ma per me è importante che tu comprenda che tutto ha un costo opportunità. Cosa vuol dire un costo opportunità in economia? Significa che c'è un costo dietro a un qualcosa che tu stai seguendo. Per me fare questo video ha un costo opportunità di non stare in piscina. Se io fossi in piscina, starei scegliendo di non poter fare questo video. Mi segui? Quindi sapendo che nella vita noi abbiamo sempre infinite scelte e possiamo sempre scegliere di fare quello che vogliamo, la domanda che ho per te è, tu cosa stai scegliendo di fare? Perché ogni cosa che scegli ne stai sacrificando un'altra. Dunque, se tu scegli di prendere quei 500 euro al mese, quei 1000 euro al mese, quei 5000 euro al mese, quei 10.000 euro al mese e al posto che investirli in te nella tua attività, nel fare un tour, nel conoscere più persone, nell'investirli per fare un mastermind dall'estero, nel andare in un affitto che ti costa 2000 euro in più al mese e invece li metti da parte perché tra 25 anni ti daranno 1800 euro in più di rendita al mese? Ragazzo, ragazza, errore. Quindi attenzione, il primo step di non perdere soldi è riconoscere quando ho un meccanismo lento a livello di ricchezza che mi porta in realtà ad avere un costo opportunità maggiore perché li metto da parte, li risparmio, li metto sotto il cuscino e non li investo invece in cose che mi produrrebbero più denaro prima. E ti do due aggiunte riguardo questo concetto perché la gente ha sempre paura di perdere soldi al posto che guadagnarne di più. Guadagnare di più implica anche perdere certe volte, implica conoscere i rischi, implica sapere dove metti i tuoi soldi, il tuo tempo, ovvio e lo fai comunque con l'esperienza e ascoltando altre persone, ma i due concetti che ti do adesso sono due concetti che completano quello che dicevo un secondo fa. Il primo è stai in fase 1. Fase 1 significa stare in quella fase in cui sei produttivo, in cui sei operativo. Tanta gente ha un gruzzoletto di soldi da parte e al posto che rimanere operativo nel mentre che capisce cosa farne, si ferma perché dice ormai ho già abbastanza soldi e quindi posso permettermi di. Errore, rimani in fase 1, rimani ispirato, rimani motivato, rimani aggressivo nei confronti della vita. Ecco perché fare più soldi, l'inseguimento che vi dicevo negli scorsi video è importante, perché quando io voglio fare più soldi per n ragioni che devono concepire cose oltre al discorso prettamente economico finanziario, ma di salute, di benessere, di dove vivere, di cosa fare con le persone che amo, che regali fare a Natale, questo ti porta a essere operativo, ok? Quindi punto numero uno, rimani operativo. Nota quando solo a causa dei soldi smetti di essere così operativo, così motivato, così energico e felice come sei di solito, notalo. E lo step numero due, per non perdere soldi e smetterla di paragonarsi. Non paragonarti, la maggior parte della gente, ti posso dire tranquillamente il 90%, fa vedere che ha più soldi di quelli che ha, ti mostra più cose di quelle che realmente ci sono. Quindi rifletti che se tu ti paragoni sugli altri che stanno mentendo, sei parte anche tu della manipolazione, perché ti stai facendo manipolare in maniera conscia. Gioca il gioco per te, prendi ispirazione, comparati in maniera sana, ma ricordati, la maggior parte della gente menti, la maggior parte della gente menti, perché te lo so dire così bene, perché conosco una miriade di persone all'interno del mondo imprenditoriale e la gente che realmente fa tanti soldi, non sempre, ma tante volte, è molto silenziosa. Fa vedere meno di quello che ha. Chi fa vedere di più di quello che ha, attenzione. Voglio darti una visione semplificata di come arrivare a fare il tuo milione di dollari liquido, di euro liquido, ed è facendolo tramite il cash flow. Perché ti voglio dare questo imprinting? Non perché sia l'unico, non perché non ci siano, come dire, modi complementari, ma perché ti do la visione corretta del lavoro che dovrai fare. Cioè molto. Tantissimo, innumerevole, esagerato. Se invece io ti dopo, dicendoti, guarda che ci sono le cripto. Che è vero, ma attenzione, attenzione. Che ti fanno fare il 1000%, che qua ti do il 20% al giorno, lì ti do il 20% al mese, lì fai staking di quella shitcoin, lì fai farming di questa coin che diventerà la numero uno al mondo. Ecco, io ti starei dopando di ragionamenti sbagliati, di ragionamenti che ti porterebbero a trovare delle scorciatoie. Ora, che le scorciatoie ci siano, che ci siano delle cose che se tu studi, se sei approfondito, capisci e puoi fare dei miei numeri 100%, ma non nel mondo cripto o nel mondo degli investimenti e basta. Anche nel mondo immobiliare, anche nel mondo della ristorazione, anche in qualunque mondo. Però è la mentalità sbagliata. La mentalità corretta è sapere che se tu diventi un professionista in quell'ambito, allora puoi trovare quelle opportunità perché sai analizzarle bene e sai vagliare tra le n che ti arrivano, ok? Quelle che sono realmente le migliori. Ma altrimenti no, non puoi sperare. Tantissima gente che ho conosciuto ha fatto soldi in maniera abbastanza fortunata e tutti quanti mi dicono ciò ad oggi mi ritrovo con zero euro. Cioè nel senso mi ritrovo con gli stessi soldi con cui sono partito prima di fare questo grande successo. Perché? Perché quando tu li fai ma non te li meriti, quando tu li fai solo per, non dico fortuna, ma dico solo per testa e non hai allenato tutte le altre skills che servono. Costanza, disciplina, sofferenza, paura, paura di fallire, paura di rimanere solo. Tutte quelle cose che solo il lavoro fa, i soldi non ti riempiranno quel vuoto. Mi segui? I soldi non ti riempiranno quel vuoto. I soldi continueranno per te a essere qualcosa di negativo perché purtroppo cercheranno di riempire il vuoto, non avrai una gestione emotiva corretta, vorrai impressionare le persone e avanti così. Dunque perché ti dico questo? Perché più tu oltretutto guadagnerai soldi, più tu riceverai n offerte di n opportunità di investimento. Scoprirai che non è solo complesso guadagnare soldi, tanti, ma è anche complesso investirli in maniera saggia e non farseli prendere da altre persone. E tanto quanto ci sono scammer al livello più basso che ti danno una banana marcia al posto che una banana sana al supermercato. Ci sono anche scammer che ti sanno dare un chilo di banane che in realtà è meno di un chilo o meglio sono banane non buone. E poi troverai anche persone che ti vogliono scammare su aprire un ristorante, sugli investimenti nel mondo finanziario per arrivare a scammer professionisti professionisti. Quindi più tu stai di livello a livello economico. A ogni livello incontrerai dei potenziali scammer che ti vorranno rubare i tuoi soldi. E alcuni saranno professionali a livelli estremi. Alcuni saranno plurilaureati. Alcuni saranno con esperienze ventennali in quella data industria. Quindi attenzione perché te lo dico oggi. A ogni livello c'è gente che vuole i tuoi soldi. A ogni livello esiste il bene e il male. A ogni singolo livello esiste. Non ti fare illudere sul no ma ad ora che ho soldi, siccome questa persona è un avvocato, allora. Siccome questa persona è qui, allora. La chiave per non perdere soldi è sempre avere la propria testa funzionante che conosce, con rapporti seri, con persone serie, con un entourage di persone intorno a te, un team di persone che ti aiuta ad analizzare i progetti, analizzare gli investimenti, che ti dà un double e un triple check, un team di persone che ti dà anche una sana calma ogni tanto. Perché certe volte il migliore investimento è quello che non fai. Quindi purtroppo ad oggi quello che io vedo e sento sempre di più, tra le persone che iniziano a guadagnare un po' di soldi, è quello della mania del moltiplicare i soldi. Ormai c'è la mania, sarà che siamo nell'era del tutto è facile, tutto è veloce, dove la gente dice moltiplica i tuoi soldi e te lo fa come fosse un gioco semplice. Cioè, sì, moltiplicare i soldi, cioè mille euro in un anno non è duemila, facciamo il 100% all'anno. Ormai sento che questa roba è diventata normale e se una persona ti dice che facciamo il 7% all'anno, eh, madonna, mi sembra brutto. Cioè, il 12% all'anno mi sembra che fa cagare. Ora, ragazzi, cercate di chiedervi come mai le persone più importanti al mondo, nel mondo finanziario, gli imprenditori quelli seri, non quelli per finta, quando gli parli già di un 12% all'anno o comunque comunichi con loro ed escono questi discorsi, ti dice che un 12% all'anno è da leccarsi i baffi. È ovvio che dipende in cosa, in come, è ovvio che si può fare anche il 1000% se compro una casa a Telerife 5 anni fa e la rivendo oggi, probabilmente ho fatto anche il 300%. Però in generale la filosofia che ammala le persone oggi è moltiplica i soldi. Tanto è facile, se non lo stai facendo stai subendo l'inflazione, il 10% all'anno, la tassa occulta, ecco come stai perdendo i soldi. Quindi investili nel mio progetto così diventi ricco. Quindi quello che vi farà perdere soldi è 1. Inconsapevolezza, 2. Incompetenza, 3. Affidarsi alle persone sbagliate, 4. Avere i calcoli in testa di quanti soldi potreste fare se faceste. Queste quattro cose collegate con una fame di velocità, rivalza, ingordigia di soldi, non guadagnati e non sudati, vi porterà nel 97% di voi a perdere i vostri soldi. Dunque per tutti coloro che nella vita hanno perso soldi, per una di queste ragioni vi chiedo la cortesia di scrivermelo qua sotto e di darmi un feedback, differenziando quando è vostra responsabilità e quando è responsabilità altrui. Cioè, è Joe, io non ho fatto quello che dovevo fare. Oppure, no Joe, mi hanno intortato così bene che voglio che lo scriviate qua sotto, ma quando lo scrivete pensate a quello che scrivete. Quanto realmente è responsabilità mia? O quanto realmente? Perché alla fine dei conti è sempre responsabilità nostra, però certe volte, porca se sono bravi e l'ho vissuto anche io.